amici e amiche carissime bentornati per una nuova puntata del nostro ciclo di catechesi dedicato al libro di approfondendo questa conoscenza della quinta dimensione la volta scorsa non abbiamo avuto modo purtroppo di terminare il capitolo ci siamo fermati ad un certo punto e riprendiamo da lì cercando di arrivare al termine di questo capitolo ed eventualmente anche introdurre il sedicesimo se il signore ci aiuta e rileggo per riallacciarci un po l'ultimo periodo che avevamo affrontato perché purtroppo quando si interrompe un discorso è sempre bene riprenderlo perché altrimenti rimaniamo un pochino sospesi e allora ci siamo fermati la volta scorsa quando riccardo aveva fatto questa domanda perché non si è vista sperimentalmente l'esistenza di questa misteriosa quinta dimensione e tenera amata rispondeva perché gli scienziati hanno il potere di attuare legato fortemente al momento presente osservano e modificano le cose soltanto dall'attimo dell'istante attuale non sono capaci di guardare meno ancora di alterare i fatti del passato i quali però perdurano intatti e viventi nel modo preciso come accadero ciò nonostante l'anima spirituale intelligentissima di questi saggi consente loro di lucubrare di esprimere matematicamente le loro conclusioni le quali in questo caso e in questo argomento si trovano d'accordo con la rivelazione divina in questo caso l'idea dell'eternità creata obietta riccardo risulta in pratica un'idea inutile niente affatto risponde tenera amata la quinta dimensione può servire alla filosofia perché essa renda omaggio alla verità e possa chiarificare alcune idee cosmologiche e altre della sua specialità e alla teologia per meglio intravedere alcuni dogmi della escatologia cristiana dentro il terreno dell'ipotesi e fino a quando il magistero non la farà culminare ma è chiaro che l'eternità creata non ha applicazione nelle scienze naturali non serve per fare grandi affari allora attenzione qui c'è un primo punto questo questa frase è molto è molto forte molto importante ed è questa numero uno che questo aspetto della rivelazione un aspetto importante per la comprensione cioè per le discipline della filosofia e della teologia cioè per quelle che vanno alla radice profonda dei grandi perché e delle grandi questioni della vita e qui sta dicendo tra l'altro che la quinta dimensione fa ingresso nella teologia a livello di ipotesi fino a quando il magistero non la farà culminare qui è ovvio che ai posteri lardo a sentenza ecco ma sappiamo bene che ci sono stati già nel corso della storia diciamo così dei dogmi che si sono diciamo così andati formando nel corso del tempo attraverso una serie di ipotesi teologiche e poi sono stati recepiti dal magistero per esempio cioè nessuno si pensi che nei primissimi secoli si parlava di transustanziazione nel terzo nel quarto secolo dopo cristo tutti credevano nella presenza reale ovviamente della di di gesù nell'eucharistia chiamiamo nella presenza di gesù nell'eucharistia no e sapevano bene che durante la messa si compieva un sacrificio ma la strutturazione dogmatica di queste verità è venuta con il concilio di trento e grazie alle ipotesi teologiche perché queste erano allora di san tommaso d'aquino e soprattutto grazie all'applicazione attenzione che san tommaso d'aquino in maniera geniale intelligentissima e anche molto molto come dire intraprendente per la sua epoca storica o meglio anche anche un po' nuova fece dell'aristotelismo alle categorie della teologia quindi è chiaro che oggi noi ci muoviamo nell'ambito delle ipotesi non vogliamo assolutamente anticipare i tempi né come detto all'inizio di questo ciclo di catechesi quando si affrontano questi argomenti specialmente quelli fondati sulla liberazione private gli si dà un consenso evidentemente di fede umana se uno ci crede non di fede divina e cattolica fino a prova contraria nella misura in cui queste queste cose convincono il nostro intelletto noi ci e che ci appaiono verosimili e niente di più poi sarà alla divina volontà fare far far fare la chiesa al suo corso perché capite un momento in cui queste cose deve essere entrare a essere contenuto come dire integrante del magistero della chiesa il discorso cambia ma allora tu che fai fai entrare fai entrare dentro la chiesa una cosa che parte da una liberazione privata anche questo non è che è tanto nuovo se uno ci fa attenzione perché ce ne sono almeno due di cose che certamente nella chiesa sono entrate a partire da rivelazioni private due almeno è almeno a livello proprio liturgico e poi a livello devozionale ce ne sono ancora di più almeno tre quali per esempio la festa del sagratissimo cuore di gesù la festa del sagratissimo cuore di gesù viene dalle rivelazioni private che gesù fece a santa margherita maria la coc compresa la richiesta che la chiesa istituisse una festa in onore del sagratissimo cuore di gesù e la festa della divina misericordia che è stata istituita da san giovanni paolo secondo nella domenica in albis viene dalla richiesta che gesù fece a santa paustina di istituire questa festa se vogliamo andare sul devozionale il culto al cuore immacolato di maria si c'era già nella chiesa ma certamente con le apparizioni di fatima ha ricevuto un impulso ulteriore no non parliamo poi delle pratiche devozionali ampiamente diffuse e ovviamente raccomandate dalla dalla chiesa certo si situano sul piano devozionale non sul piano liturgico che sono i primi nove venerdì del mese o i primi cinque sabati del mese c'è qualcuno che dice che leone che che più dodicesimo sia stato spinto diciamo così come molla definitiva a formulare il dogma dell'assunzione c'è chi dice non è non è non è sicuro sta di fatto che cronologicamente però nel 1947 alle tre fontane quindi tre anni prima del dogma la madonna affermò chiaramente il mio corpo non poteva morire non morì non poteva marcire non marci gli angeli vennero a prenderlo a portarlo in cielo se è vero ha sicuramente più l'odicesimo conosciuto bruno cornacchiola e pruno cornacchiola queste cose gliela raccontate di persona questo è sicuro se è vero poi che sia stato influenzato per la definizione del dogma quindi se questo un giorno si venisse a sapere vorrebbe dire che anche questo caso una rivelazione privata ha dato una spinta a un dogma io personalmente non mi stupisco affatto di di questo no perché nel corso della storia dio continua a guidare la sua chiesa in molti modi e attraverso molte forme lo fa attraverso il genio di alcuni grandi teologi lo può fare tranquillamente attraverso questo strumento no che il signore parla si rivolge a qualche anima semplice qualche anima piccola pensiamo se un giorno nella chiesa avrà il diritto di cittadinanza la divina volontà la divina volontà per carità e sotto certi aspetti è nata con la chiesa stessa d'accordo perché sono duemila anni che nel padre nostro chiediamo al signore questo no però la sua diciamo così spiegazione fin nei minimi dettagli e in tutte le sfaccettature possibili e immaginabili storicamente è avvenuta attraverso ciò che il signore ha fatto con un'anima ben precisa che si chiamava luisa piccarrete che è nata in italia che è vissuta a cavallo tra il diciannovesimo e il secolo ecco quindi questo per 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 comprendere certamente fino a quando non ci sono degli step successivi e come dire il nostro rispetto dovuto probabilmente poi di me che sono sacerdote magistrato della chiesa rientra nel fatto del muoversi sull'ambito di considerare queste cose come ipotesi attendibili ovviamente perché se non ritenessi attendibili mi ricordo ho ricevuto qualche tempo fa una mail mi fa ma sta cosa di sta quinta dimensione ma ma lei la ritiene attendibile dico guarda cioè se non la ritenessi attendibile ma ti pare che c'era da fare un ciclo di catechesi no quindi che che sia un dogma di fede no d'accordo che potrebbe non non esserlo per carità tutto è possibile ma se non la ritenessi attendibile che c'era da fare un ciclo di catechesi sopra stiamo già non so a quale puntata 12 13 14 ogni tanto per del conto quindi non lo farei se non lo ritenessi attendibile no l'eternità creata è utilissima nella religione continuo a leggere perché mostra l'importanza decisiva di qualsiasi atto e circostanza che ci è toccato vivere sulla terra ecco un punto fondamentale ogni spazio tempo col suo atto di esistenza di importanza capitale per il bene o per il male per l'eterna beatitudine o per la perpetua disgrazia non soltanto a valore il totale sommato o le somme parziali di ogni riconciliazione e di ogni incontro con il nostro dio ma è anche preziosissima ogni addizione di corrispondenza alla grazia divina questo la teologia già lo sa nel trattato dei grazie a queste cose si studiano cioè ogni noi ci abbiamo la nostra vita si si svolge appunto in questi spazi tempi che si susseguono dove noi compiamo degli atti degli atti che possono essere buoni o cattivi oppure in qualche circostanza indifferenti per esempio quando dormiamo non è che quando dormiamo meritiamo o demeritiamo se stiamo proprio dormendo dormendo dormiamo e basta è un atto ininfluente ma quando sto sveglio no perché posso fare un atto cattivo o un atto buono un pensiero cattivo o un pensiero buono e questo è un queste cose si stagliano evidentemente nei vari spazi tempi che caratterizzano la nostra esistenza e ogni addizione di corrispondenza alla grazia divina è importantissima perché perché ti fa crescere in grazia sulla terra e questo è ciò che già sa la chiesa e ti fa crescere in gloria nel cielo non è la stessa cosa aggiungere corrispondenza corrispondenza la grazia oppure no non lo è affatto le matematiche gli atti umani perdurano vivi nella quinta direzione le matematiche della terra non coincidono con quelle del cielo perché manca a loro appunto il parametro dell'eternità creata ancora l'importanza degli atti umani qui ci fece tempo un tempo fa un ciclo di catechesi credo sul mistero dell'uomo dove spiegavo anche bene che cos'è un atto umano no gli atti umani sono per antonomasia proprio gli atti umani quelli volontari in cui è implicata la nostra volontà che sono essi il principio del merito del demerito quindi della virtù o del peccato l'importanza degli atti umani in questo mondo continua la citazione è tanta se nella società voi raggiungete un maggior progresso cristiano più felici saranno i vostri rapporti d'amore con gli altri beati ma se la superbia e l'egoismo indeboliscono l'amore di carità nell'apostorato avremo purtroppo scarso numero di compagni di felicità con un quantitativo limitato di spazi tempi da godere e quindi con minore abbondanza di piacere di gaudi nella gloria occidentale state capendo quello che sta dicendo così già sta rispondendo che mi cominciano a fare via mail anche sui commenti di youtube le domande dico abbiate pazienza gli atti cattivi non sussistono più nella quinta di me non possono sussistere perché il male da un punto di vista filosofico il male è il non essere e il non essere non può perdurare perché il male non si può concepire mai come un concetto positivo ma è sempre visto come privazione di bene quindi ciò che ti pare che cioè nell'eternità creata dove si rientra rivivendola dal versante del paradiso ma ti pare che io possa andarmi a godere dall'eternità creata uno spazio tempo in cui ho detto una parolaccia ma non me lo andrò a godere quello spazio tempo lì e se io dico un autotreno dei parolacce capite cioè qui le matematiche del cielo la giornata è fatta in un certo numero di ore che ci ho fatto io quelle ore lì più peccati faccio diciamo così e meno spazi tempi conservo per l'eternità creata e quindi dice attenzione siccome quegli spazi tempi cioè sono i miei per quanto riguarda la mia esistenza ma poi saranno goduti anche da altri e per cui se il peccato dell'uomo fa diminuire questi spazi tempi diminuisce l'abbondanza di piacere di gaudi della gloria accidentale quindi la quinta dimensione è un preziosissimo corollario delle teorie relativistiche io non mi addentro adesso ad approfondirle perché ne so poco è uno sprone di giubile per l'attività cristiana personale e sociale è un potente sedativo nell'angoscia per i problemi attuali è l'antidoto contro il pessimismo è un vigoroso argomento per intravedere più chiaramente i novissimi o cose ultime che attendono l'uomo non è un caso che quest'anno insomma a fianco alla catechesi sul tenere amata l'altro grande ciclo di catechesi è quello appunto sui novissimi perché così li affrontiamo insieme ed è infine uno stimolo che fomenta la pace e la speranza tra i cristiani pellegrini per tutto questo dunque il nostro Dio ha voluto oggi dimostrartela oggettivamente la quinta dimensione è meravigliosa nel cielo ascoltate dopo la fine dell'umanità viatrice noi glorificati potremo ritornare al passato e vivere la realizzazione dei desideri onesti che si frustrarono in questo mondo e qui commento io si frustrarono per vari motivi primo per circostanze del tutto contingenti e relative ma per altri motivi è perché qui in questo mondo alcune cose non si possono più vivere non è più possibile non è più possibile viverle vi ricordate tutti quanti gli amori che sono stati pensati tra ogni singola anima e tutta quanto una serie di anime che Dio ha è come dire ha sintonizzato ha ha fatto l'una per l'altra non è possibile viverle in questo mondo non è possibile non è possibile perché purtroppo purtroppo noi abbiamo perso la capacità di amare in maniera perfettamente pura non c'è più questa cosa e è impossibile che ci sia a meno che non avvenga un miracolo e quindi come vedremo più avanti che succede? quali sono le uniche forme diciamo così molto 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 fisiche in cui è possibile manifestare l'amore? ci vuole il matrimonio monogamico ci vuole e tra l'altro monogamico tutto il resto è soggetto ad una a fortissima limitazione secondo le più austere pratiche ascetiche che ci osservavano un tempo quasi assoluta ma questo non sarà nell'altro mondo è qui però capite che questo impedisce di fatto la realizzazione di tantissimi desideri di persone onesti e anche addirittura alcuni dei quali disposti predisposti da Dio cioè ricordiamo sempre che Riccardo sta parlando con una persona che ha visto una volta sola in vita sua e verso la quale ha sentito nascere quelle prime forme di innamoramento infantile molto più grande di lei tra l'altro immaginate no cioè quella c'era avuto vent'anni questa c'era ragazzina di dieci anni supponiamo pure cioè come lo fai a concretizzare una cosa del genere in questo mondo è proprio impossibile eppure quello era un amore celestialmente stabilito per quello che tenera amata sta lì vedete riprendo la lettura ritorneremo per ringraziare come si deve al piacevole modo celeste i favori ricevuti da coloro che ci amarono con amore di carità oppure per esprimere e realizzare intenzioni lecite che durante la vita mortale ci sfuggirono a causa dell'ignoranza invincibile ciò si può fare adoperando paratempi simili a questo in cui ci siamo ubicati oppure ricorrendo alla sesta dimensione che poi vedremo cos'è io ho già detto la volta scorsa che l'ho letto 6-7 volte questo libro qui non ho ancora focalizzato bene questa sesta dimensione spero di farlo durante quest'ultima lettura e se no pazienza amici miei perché questi sono argomenti un pochino complicati quindi vuoi dire che i beati ritorneranno a trovarsi e convivere sulla terra dopo il giudizio finale vedete come cambia il nostro orizzonte sì proprio così ma non solo sulla terra attuale ma sul pianeta eterno fin dalla sua creazione al presente qualcosa incominciamo a fare ma con timidezza per non interferire con gli attuali viventi mortali e con grandi precauzioni a causa dello stato di interdizione vigente sulla terra questa cosa mettiamocela bene in testa stato di interdizione vigente sulla terra a causa del peccato del mondo ripeto stato di interdizione vigente sulla terra a causa del peccato del mondo non è qui cioè allora io ho studiato la legge perché penso che lo sa che chi mi conosce lo sa sapete che cos'è l'istituto dell'interdizione legale è terribile cioè se una persona viene interdetta è civilmente morta non può più fare niente senza la firma del tutore infatti prima di fare una cosa di questo genere bisogna risparmiarla anche se c'è proprio di anzi un incapace di intendere di volere meno grave è la sentenza di inabilitazione che lo disabilita agli atti straordinari che ci vuole la firma del curatore ma almeno quelli ordinari li può fare ma l'interdetto non può fare niente non può fare e noi qui stiamo proprio interdetti stiamo non possiamo fare quasi niente purtroppo a causa di cosa del maledetto peccato del mondo invece dopo la risurrezione finale sarà qualcosa di grandioso per i beati riuniti con coloro con i quali si amarono con carità convivenze veramente amichevoli realizzazione di ideali onesti e di amori leciti al delizioso modo celeste incontri con persone non conosciute della stessa epoca o di periodi storici diversi e la scoperta di nuovi e gradevolissimi amori della gloria accidentale adesso sentite spero che nessuno si scandalizzi però perché se uno si scandalizza vuol dire che qui non sta capendo niente quindi se non sta capendo niente faccia un po' di ripasso prima di scandalizzarsi ricardo chiede come mai dove andai stupito in questo mondo hai appena conosciuto alcune poche donne che ti interessarono delle moltissime che il nostro Dio ti ha destinato per la tua gloria non hai avuto non hai avuto il tempo terrestre per amminare almeno tutte le donne belle che sono state due contemporanee ricorda che è sufficiente che tu senta l'attrattiva amorosa perché abbia fondamento il vincolo d'amore reciproco nel cielo ragazzi stiamo capendo bene facciamo uno step indietro allora se anche ricardo le avesse conosciute tutte queste donne che gli interessano che cosa poteva fare nella vita lui che era sposato niente niente proprio quasi niente perché perché è pericolosissimo avere un contatto con una persona di sesso diverso in questo mondo sia che c'è la moglie sia che la moglie io non ce l'hai ci vuole il vincolo matrimoniale che come sappiamo catechesi dell'anno scorso quindi rende lecito come dire rende lecito da una valvola di sfogo lecita alla concupiscenza che inevitabilmente si innesca quando tu entri in contatti neanche troppo intimi con una persona di sesso diverso e come vedremo questa la concupiscenza attraverso il matrimonio monogamico e tra l'altro vissuto secondo Dio è stata da Dio limitata il più possibile non essendo più possibile dopo il peccato originale ciclo di catechesi dell'anno scorso che questa cosa non ci sia più non è possibile né che non ci sia più e non sarebbe nemmeno possibile perché cesserebbe la riproduzione della specie umana che adesso non ha altri modi dopo il peccato originale di riprodursi che questa io spero che si riesca a capire eppure lei dice è sufficiente che tu senta l'attrattiva amorosa perché abbia fondamento il vincolo d'amore nel cielo ora grazie alla quinta dimensione le tratterai ampiamente ha voglia al tempo di stare con tutte queste qui in amori che allora saranno leciti teniamo presente non so se l'ha già detto tenere l'amata ma lo dirà dopo che nella quinta dimensione e nel paradiso sesso non esiste piacere sessuale non esiste non c'è questo lo dice già Gesù nel Vangelo non c'è bisogno che lo dica tenere l'amata l'abbiamo visto durante volte l'anno scorso nel circo di Catechesi dedicato al peccato originale i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito ma non i figli dell'altro mondo dove non prendono né moglie né marito dicendo questa cosa Gesù sta dicendo che in paradiso attenzione luogo di esistenza di tutti i piaceri e i divertimenti possibili e immaginabili leciti compresi li abbiamo già visto in qualche circostanza quelli culinari vi ricordate la pallottolina di cielo fanno le puntate precedenti no? questo è un piacere legato a gusto no? che in questa vita dobbiamo moderare sempre perché stiamo in stato di interdizione perché altrimenti cadiamo nel vizio della gola interdizione ma questo piacere è un piacere lecito se io mi mangio con moderazione non lo so 80-100 grammi di spaghetti alle vongole e ringrazio il Signore non faccio nessun peccato anche in questa vita la grande difficoltà è mantenersi sempre amorigerati a causa della presenza del peccato nel mondo ma il sesso nel cielo non c'è quindi eliminata questa 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 fonte diciamo così di di degradazione dell'uomo perché così è concepito tutte quante le forme di amore lecito diventano possibili come vedremo perché prevedono delle modalità di trasmissione molto degne dell'uomo e molto e molto belle e che non possono essere disturbate una volta che stiamo nell'altra dimensione dall'insorgere della concupiscenza perché non c'è più non so se sono stato chiaro dice grazie alla quinta dimensione le tratterai ampiamente e scoprirai amori insospettati che realizzerai d'accordo con le dilettevolissime norme celesti si realizzeranno questi qui e non soltanto della tua epoca ma di tempi per te passati o futuri più avanti scorgerai l'amore umano nella gloria occidentale dice allora riccardo dice dovrò viaggiare molto attraverso la quinta dimensione per trovarle nell'ampissima storia della terra e lei gli risponde ma le troverai immediatamente opportunamente perché il nostro Dio ha già programmati per la tua maggior gloria accidentale ognuno di questi ineffabili amori celesti niente costa fatica nel cielo dal Signore dipendiamo e Lui tutto ci dà con infinita magnificenza che ne dite ragazzi spero che nessuno evidentemente ripeto si scandalizzi di queste cose perché chi si scandalizza di queste cose non ha a mio avviso né ben compreso cosa significa che Dio è amore che noi siamo stati creati dall'amore e per amare e non ha neanche un pochino conosciuto un po' su questa terra l'amore di Dio è un amore molto molto sensibile anche sopra sensibile ma chi impara almeno un pochino a pregare sul serio non è possibile che non riceva qualche piccolo tocco dell'amore di Dio sapete i sacerdoti in cura d'anime ricevono stanno in contatto con tante persone sapete quante volte mi succede che mi contatta qualcuno che magari mi racconta sono molto generico un'esperienza intima un po' sensibile un po' apparentemente fuori del comune e te la racconta come una cosa che allora c'è chi magari si insupervisce un po' che pensa che queste cose accadono solo a lui oppure chi si intimorisce un po' che è il Signore che fa certe face nell'altro caso dico guarda non ti turbare non ti agitare perché questo è assolutamente normale cioè queste cose non ce le ha soltanto chi con Dio non ci sta mai e non lo frequenta a volte non accadono subito o non accadono sempre non sono neanche questa diciamo la sostanza più importante in questo mondo la cosa più importante è servirlo al Signore e amarlo con amore di volontà non ricevere le sue consolazioni sensibili ma è quasi inevitabile perché pur con tutte le le precauzioni le attenzioni che il nostro Signore stesso ha lo vedremo anche qui lui è contento se qualche piccola scintilla qualche piccolo aperitivo qualche piccola anteprima ci arriva anche in questo mondo di quello che ci aspe piccola perché qui siamo capaci di poterne di poterne assimilare poca e poi abbiamo tutti quanti i vincoli tutte le limitazioni lo stato di interdizione ma qualcosa sì passiamo quindi al capitolo 16 è qui adesso dopo queste cose Riccardo si arrende dice è meravigliosa è sconcertante la quinta dimensione dissi a tenera amata sentite la risposta per questo ho detto non vi scandalizzate non vi turbate lei risponde sì a prima vista causa turbamento perché presenta la realtà del cosmo in un modo nuovo ti è difficile rettificare le classiche categorie soggettive molto radicate nella tua coscienza ti sei forgiata una realtà egocentrica ed incompleta i cambiamenti fisici e chimici delle cose di te stesso accadono in un dato momento ma si perpetuano per sempre nel passato esattamente come avvennero sarebbe forse stata così fragile la potenza creatrice dell'altissimo cioè che cosa intende cioè che lascia che mano mano che una cosa passa nel tempo svanisce nel nulla sarebbe stata così fragile la potenza gradice dell'altissimo chiede ma certo che no risponde ciò che credevi annientato permane immutabile nell'eterna realtà oggettiva e adesso attenzione così chi sente questa 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 puntata mi farà un po' di domande in meno allora ciò che è già accaduto non si può correggere rimane così non è vero risposta gli atti virtuosi perdurano senza nessun cambiamento ma i peccati si possono annientare in tutte le dimensioni del cosmo mediante il perdono divino il male morale è la sola cosa annullabile nella creazione il male morale pensate un po' e ripeto si può cancellare attraverso il perdono divino e qui Don Pablo credo che sia sua ci ha scritto una nota che è simile a quella che io vi ho detto prima cioè quale il peccato il male morale non ha entità non è un essere è un'ingiustizia è un disordine è un vuoto è un vuoto colpevole di un bene soprannaturale un bene impedito un bene annientato e quindi è molto facile annientarlo fermo restando che bisogna pentirsene e ci vuole un atto della misericordia di Dio è molto grande la potenza redentrice di nostro Signore Gesù Cristo vedete quando si dice che il sacrificio di Gesù ha tolto i peccati del mondo nel senso che li proprio distrugge non ci sono più una volta che sono confessati anche questo per noi è difficile capirlo perché anche se ho fatto la confessione generale non ci devo troppo pensare ma il ricordo dei peccati commessi rimane nella mia intelligenza cioè io non ci metto niente a tornare indietro nel tempo se ho commesso dei peccati in passato purtroppo qualcosa l'abbiamo fatto tutti quanti e quella cosa non esiste più se l'hai confessata con sincero pentimento quella cosa non esiste più esiste nella tua memoria ma non esiste più nella realtà e quando staremo dall'altra parte saremo smemorati di questa a questa domanda non so rispondere posso semplicemente azzardare a dire chissà sarà lecito sperarlo o anche dovendola magari ricordare che tipo di reazione ci susciterà non sicuramente quella di adesso perché nell'altro mondo non si può soffrire è impossibile cioè se soltanto ripensare una cosa che ho fatto mi dice che mi causa tristezza ma guarda che ho fatto ma sì lo so che sia una perdonata mi dispiace tanto che l'ha fatta questa cosa questa è una sensazione penosa non è una cosa bella questo sicuramente non è possibile vivere nel paradiso non è possibile viverlo questo stato d'animo non è del paradiso questo è sicuro se poi li abbiamo dimenticati se questo annientamento nel fatto una volta che siamo morti causa anche un annientamento nella nostra memoria cosciente questo al momento non so rispondere non so se più avanti tenera amata fa qualche cenno ma comunque cessa ogni percezione di malessere di dispiacere appunto di turbamento legato il momento in cui esprimerlo in maniera santa è questo noi non dobbiamo mai disperarci dei peccati commessi o sentirci in colpa o non sentirci perdonati no però piangerli quindi quando li rievoco in questa vita e mi dispiace tanto di averli fatti perché ho offeso il Signore e ci piango sopra ma con quel pianto bello con quel pianto fatto ai piedi di Gesù dice ma Signore mio mi dispiace proprio tanto lo so che mi hai perdonato a me dispiace lo stesso perché a causa di questi peccati sono stata la causa della tua morte lo so che tu l'hai fatto con tanto amore e l'avresti fatta pure un'altra per me per quanto mi vuoi bene però a me mi dispiace lo stesso d'accordo però questo questo è la beatitudine evangelica beati gli afflitti perché saranno consolati questo è uno dei pianti santi questo pianto è un pianto dolorosissimo però è quel dolorosissimo celeste che pur essendo dolorosissimo ti lascia in una pace imperturbabile bellissima e dopo che è finito ti lascia pure in una pace e non solo la consolazione la gioia quindi questo è un buon esercizio da fare in questo mondo ma in questo mondo un po' di venidenza lo dobbiamo fare dopo non c'è più è l'unico momento in cui possiamo farlo questo anche perché se non lo facciamo abbastanza è questo è l'esercizio del purgatorio amici miei perché nel purgatorio c'è questo esercizio del piangere i propri peccati in paradiso no fine niente pianto e niente lamento ok zero né weeping né wailing niente si dice attenzione adesso cosa dice Riccardo ogni tanto fa ridere si dice che bastonata data nemmeno Dio la toglia è falso risponde questo detto blasfemo addirittura se è trovato una bastonata te la toglie manco Dio falso anzi blasfemo e sentiamo la spiegazione supponiamo che un fraudatore abbia distrutto un documento che lo comprometteva lo bruciò in una precisa data ed ora nessun mortale potrebbe rifare tale documento l'interessato conclude che una volta distrutta la prova evidente nessuno neanche l'onnipotente potrebbe farla riapparire il peccatore si sente molto sicuro distrutta la prova non c'è delitto perseguibile ma ciò che il malfattore dimentica è che il documento fu bruciato in un certo momento ma non negli spazi tempi anteriori basterebbe retrocedere nella quinta dimensione per trovare intatta quella carta non trovi molto consolante che la stessa cosa avvenga con le opere buone perciò non conviene questa la pratica che ho fatto ieri per l'immacolata rimanere nemmeno un secondo in peccato grave perché nel riacquistare la grazia del Signore sono ridotti a nulla gli atti di esistenza e gli spazi di tempi del periodo in cui l'altissimo fu respinto dal peccatore ridotti a nulla la giustizia è completa ed intrinseca una giustificazione superficiale ed estrinseca non avrebbe senso nella quinta dimensione che concerne la storia dell'essere o si cancellano gli atti o perdurano lì nel conto finale non rimangono tracce del peccato perdonato il suo annientamento è stato definitivo di conseguenza dopo nel cielo mancheranno quegli spazi tempi annientati che avrebbero dovuto riempirsi di amore e di carità per meglio godere la gloria accidentale capite quello che sta dicendo allora per essere per essere chiari io faccio un peccato mortale oggi alle 5 di oggi pomeriggio ok se io mi vado a confessare alle 6 ok che cosa succede che quello spazio tempo in cui stavo in peccato mortale o quel peccato mortale viene cancellato ok ma se io mi vado a confessare tra 10 anni che succede di quei 10 anni vissuti in stato di peccato mortale una cosa è sicura attenzione perché questi sono i principi cioè a ste cose amici miei dobbiamo pensarci leggete sant'ommaso d'aquino se non credete a me allora se tu stai in stato di peccato mortale non stai in grazia di dio tu puoi compiere delle azioni buone ma solo umanamente buone non soprannaturalmente meritorie non lo dico io questo qui questo si trova perché per un motivo molto semplice perché non avendo la grazia di dio e quindi la carità operante le tue azioni certo se tu vedi un vecchietto che sta che deve attraversare la strada e lo aiuti quella è un'opera buona ma non è animata dall'amore soprannaturale perché non ce l'hai la grazia di dio la grazia di dio è una forma che avvolge la nostra anima quindi quella è un'azione buona attenzione che merita un premio umano non soprannaturale capite che danno che è stare dieci anni senza confessarsi stato di peccato mortale che danno che è perché quando ti andrai a riconfessare si il signore distrugge tutti quanti ma ti sei perso dieci anni dieci anni di spazi tempi che avresti dovuto riempire con atti di amore di carità cioè compiuti in grazia e animati dalla carità che quindi avrebbero dato maggiore grazia a te maggiore gloria e tutti quanti capaci di essere rivissuti nella quinta dimensione perché non sono tempi destinati ad essere annientati quando e se ti pentirai ma riempiti di amore di dio spero di essere stato chiaro ma voi capite che le conseguenze cioè della comprensione della quinta dimensione io ieri dicevo durante l'omelia senza far riferimento a questo perché non è corretto farlo dal pulpito no? evidentemente ma siamo logici tanto stiamo una volta c'era l'ottava dell'immacolata è stata ieri la festa dell'immacolata oggi è il 9 dicembre quindi siamo logici ma se dio per incarnarsi fa un miracolo perché la sua madre non solo non avesse nessun peccato suo ma non fosse nemmeno sfiorata dal peccato originale ma questo che significa amici miei significa che dio fa qualunque cosa muore pure in croce per te se li prende su di sé i peccati del mondo ma lui col peccato non vuole averci niente a che fare perché il peccato è il male è l'unico produttore di ogni sorta di male possibile immaginabile sia quello originale che quello attuale ma se uno a questo ci credesse ma ti pare che porta a battezzare un ragazzino a quattro mesi cinque mesi e perché a perché il padrino non può prima a perché il ristorante a perché no perché d'inverno fa freddo queste sono io so parro le sento in continuazione queste cose cioè non voglio giudicare evidentemente le persone che non si rendono conto sto giudicando però le situazioni i fatti i comportamenti cioè è chiaro che chi fa questi ragionamenti non ce l'ha questa convinzione pratica operativa come le chiama teneramata quello non ci crede che un ragazzino che perdura in stato che perdura nella condizione di averci sulla sulla propria anima la macchia del peccato originale non sono le conseguenze la macchia noi lasciamo macchiati come se l'avesse commesso lui anche se non l'ha commesso è trasmesso ma non commesso ma gli inerisce come proprio fino a quando non viene battezzato quello sta con l'eredità di Adamo sulla sua anima ma stiamo scherzando nel catechismo di San Pio X già qualcuno ha scritto i commenti durante il video sul video di YouTube c'era scritto il più presto possibile non oltre il decimo giorno di vita che ha già un'enormità lo stesso se hai fatto un peccato mortale ma sapete quante volte io dico ai miei parrocchiani ci sono due motivi per cui potete venirmi a disturbare di giorno e di notte sbattete la porta fate quello che volete anche alle due di notte olio santo se state per morì ovviatico e confessione perché se tu hai fatto un peccato mortale che ne so facciamo un esempio brutto sei andato a prostitute alle 10 di sera torni a casa e te pia il magone vieni a bussare alle 11 di notte alle 11 di notte prima te lo levi sto coso dalla coscienza e meglio è vado domani mattina va subito adesso non voglio far prendere la psicosi però capitemi il senso di quello che sto dicendo non voglio adesso creare dei mostri che diventano psicopatici però il senso è questo c'è gente che non si confessa per 30 anni per 20 anni quelli si salveranno immaginate uno che si salva per il rotto della cuffia come si dice dice ah vabbè tanto io becco tanto poi a parte che non bisogna fare questi discorsi tanto poi mi converto prima di morire e mi salvo a me se non concesso questo discorso non mi deve essere fatto mai e per nessun motivo perché chi te l'ha detto che ti converti e ti saldi non solo deve essere così cretino ad andare a rischiare la dannazione ma a me se non concesso quanti spazi tempi della tua esistenza ti rimangono da viverti nell'eternità creata della tua quanti quanta gloria accidentale quanta tenera amata si rammarica di essere una beata bassa certo era tanto contenta ma è una beata bassa ma perché dobbiamo diventare dei beati bassi se possiamo adesso non dico cioè poi se giudica il signore ma uno ce la mette tutta o no è chiaro se ci crede a queste cose perché se non ci crede è finito se ci crede va bene ma se non ci crede è finito ripeto non conviene ritardare nemmeno un secondo in peccato grave cito perché nel riacquistare la grazia del signore sono ridotti al nulla gli atti di esistenza e gli spazi tempi nel periodo in cui l'altissimo fu respinto dal peccatore e nel cielo mancheranno quegli spazi tempi annientati che avrebbero dovuto riempirsi di amore carità per meglio godere la gloria accidentale obietta Riccardo ma io avevo capito che il tempo passa e soltanto lascia la sua traccia sì ma la traccia del tempo e dello spazio non consiste unicamente nell'erosione delle cose e nelle rughe sui volti vale assai di più è il perdurare eterno degli innumerevoli spazi tempi corrispondenti agli atti di esistenza di ogni essere reale siamo in grado adesso di capire questa frase senza che la devo rispiegare un'altra volta ripeto il perdurare eterno eterno la quinta dimensione si chiama anche eternità creata noi e questo mettiamocelo bene in testa ci abbiamo una data di nascita a differenza dell'altissimo ecco perché lui è l'altissimo e noi no anche per questo non solo per questo ma una volta che noi ci siamo noi non cesseremo mai di essere beati o dannati io non cesserò mai di essere chiaro quindi già questo non dovrebbe far troppa difficoltà a comprendere il concetto di eternità creata e da quando io sono stato concepito cominciano i miei innumerevoli spazi tempi corrispondenti ai miei atti di esistenza teneramata è difficile accettare questa persistenza definitiva della storia delle persone e delle cose contraddice il senso comune chissà se il mio corpo infantile che sto guardando non sia un'allucinazione e teneramata con pazienza risponde no stai vedendo la realtà la grande realtà oggettiva che non è contraria al senso comune ma contraria agli schemi mentali soggettivi errati causati dalla natura umana decaduta e sgretolata dal peccato l'equivoco tuo è simile a ciò che avviene in viaggio dal tuo sedile contempli il panorama che cambia continuamente ma questo cambiamento avviene soltanto nella tua coscienza poiché dietro è rimasto imperturbabile lo stesso paesaggio altra bellissima immagine in modo se tornassi indietro troveresti tutto tale quale lo hai lasciato in modo analogo nel tuo breve passaggio di mortale per questo mondo tu contempli il tuo divenere e quello delle cose dal finestrino del momento presente con l'incertezza di ciò che accadrà e con la tristezza per le cose credevoli che ormai passarono questo punto di vista erroneo ti fa soffrire più di quanto sembra è bellissima questa immagine pensiamo di stare su un treno o su una macchina noi camminiamo viaggiamo e mano mano che viaggiamo quello che vediamo davanti agli occhi passa mi sposto da Roma a Firenze Roma non la vedo più e da sotto gli occhi vedo vedo Firenze ma non è che siccome non la vedo più Roma non c'è Roma sta sempre là è che in quel momento io vedo Firenze il nostro legame al momento attuale è così ricordate anche quell'immagine dell'ultima carta del mazzo di carte noi stiamo sempre ancorati lì allora sapete no che succede in procinto di un evento bello comincia l'attesa non vediamo allora che arriva 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 poi arriva e poi quando arriva cominciamo a pensare ecco qua mo ce lo godiamo ma tanto questo finisce finisce presto e quando finisce ci entristiamo perché è finita una cosa bella la vita funziona così ma la vita funziona così perché noi stiamo sempre ancorati a questa altra limitazione strutturale questa è un'altra limitazione strutturale che fa parte del grande stato di interdizione in cui stiamo perché io non posso muovermi l'abbiamo già visto tante volte io non posso andare indietro nel tempo io non posso andare a rivivere la mia vita di bambino a rivederla non lo posso fare non posso rivivere gli eventi gradevoli del passato adesso posso sperare che arrivino altri in questa vita mortale ma io non posso ho vissuto una cosa bella l'anno scorso una bella esperienza l'anno scorso posso sperare di riviverla ma io non posso riviverla non posso adesso rivivere quello che ho vissuto l'anno scorso adesso non lo posso fare dopo che sarò morto sì ma adesso no e dopo che sarò morto se vado in paradiso attenzione che tutti quanti questi bei discorsi questi valgono per le anime beate questi non valgono per le anime dannate o meglio non lo so se poi sarà il caso di fare un appendice per guastarci la festa perché ci starebbe una bella appendice da fare di quello che si può presumere che accada alle anime dannate attenzione che non moriranno mai e che per tutta l'eternità resteranno tali chiusa parentesi questo punto di vista erroneo ti fa soffrire di più di quanto sembra perché domanda Riccardo per esempio soffri quando perdi un amore illegittimo invece la tua pena si mitigherebbe fino quasi a svanire se accettassi sul serio la persistenza di tutti gli esseri la speranza cristiana di riavere un giorno ciò che hai perduto diminuirebbe il tuo dolore il germe dell'immortalità e il fatto della sopravvivenza sono in te come puoi constatare nel tuo corpo di bambino nessun atto è perduto tutto perdura eccetto i peccati perdonati dal Signore e due quando dici un anno fa quest'oggi ebbi una grande gioia ricordi quell'evento con un'ombra di amarezza perché lo consideri già andato lontano e diripetibile ma non è così e che fortuna che tu ti sbagli niente passa e perisci in questa vita il tempo passato è un archivio perenne nulla ti ha tolto se tu credessi nella quinta dimensione pieno di gioia esclameresti è da un anno che sto ricevendo una gioia profonda e duratura e tanto più la vivrò nuovamente quando sarò nella patria lascia dunque quel tuo gusto per le canzoni che parlano di ciò che finì per sempre finiamo alla grande oggi leggo quest'ultimo capoverso come vedi ti succede come a bambini piccoli quando perdono un giocattolo piangono sconsolati perché la palla è rotolata sotto il letto tu ti rattristi perché i tuoi beni perduti la tua giovinezza posso fare una battuta per chi si trova come me i capelli o i tuoi momenti di regittima gioia passarono dal momento presente nell'ambito della quinta dimensione tristezza inutile a meno che tu la viva con amore di carità ma se invece tu confidassi nel nostro Dio come il bambino è sicuro di sua madre attenderesti con pazienza fino a riavere tutto con abbondantissimi acquisti tra l'altro quando con la buona morte quindi morte in grazia si romperà il tuo legame col momento attuale ed entrerai trionfante nella gloria perciò il cristianesimo è la religione della gioia chiudiamo così alla grande quindi immaginate se uno a queste cose comincia a crederci veramente le cose belle che ho vissuto nella vita non sono un passato che non tornerà più ce l'ho in banca ce l'ho tornerà e lo rivivrò più bello di prima perché quando lo rivivrò potrò vivere e fare in quel passato gradevole anche tante cose che a causa del mio stato di interdizione presente non si potevano fare in quel momento vedremo poi quando Tenera Amata ci racconta gli animali che abbiamo posseduto io qui ho i miei fortunatissimi gattini quando torneremo nell'eternità creata non anticipo perché loro quei 15 anni di vita a loro loro si riconservano tutti e quindi i peccati ne possono fare tanto beati loro loro hanno il loro limitato tempo di vita terrena ma anche per loro c'è l'eternità creata e il godimento di cui sono capaci loro non possono avere la visione beatifica ma possono essere beatificati da noi che siamo i sacerdoti del creato anticipo questa cosa qui adesso però non andiamo troppo in là e vi anticipo subito che la prossima puntata cominceremo dalla grande domanda ma perché Dio permette che soffriamo la grande domanda di tanti però non la affrontiamo adesso perché stiamo a 59 minuti e dobbiamo chiudere amici quindi ne parleremo la prossima settimana a Dio piacendo una santa notte a tutti e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga e che la prossima a Dio piacendo a Dio piacendo a Dio piacendo